Ciao a tutti ragazzi, mentre mi appresso a fare una piccola corsa con i kart, cosa che mi appassiona molto vi volevo dire che nei prossimi giorni usciranno dei video a tema tech in quanto sto aggiornando il pc con il quale lavoro e registro i gameplay ergo, statevi pronti perché penso di fare anche qualche tutorial perché appunto sto in fase di aggiornamento e può essere una cosa anche interessante perché no, magari può anche dare una mano a qualcuno se magari può avere difficoltà a fare una determinata cosa se non l'avete ancora fatto mi raccomando mettete mi piace al video ovviamente iscriviti al canale ciao ragazzi